Si sono svolti a Candelo, nel biellese, i funerali di Orazio Scanzio. Fu il secondo presidente della provincia di Biella dal 1999 al 2004. Aveva 72 anni. Alla funzione, nella chiesa di San Pietro, numerose persone che hanno dimostrato la stima e l'affetto per un uomo che lascia un'impronta indelebile di amore per la sua terra.